In una nuova giornata di bombardamenti in Siria, diversi obiettivi sarebbero stati colpiti dai caccia russi. Secondo informazioni fornite dalle organizzazioni non governative locali in un mercato, nella città di Aria, nella provincia di Idlib, almeno 18 persone sarebbero rimaste uccise nei raid. Ad affermarlo sono l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani e i Comitati di Coordinamento Locale, un gruppo di attivisti anti-Assad. Secondo altre fonti locali, le vittime sarebbero invece più di 40. Secondo informazioni non verificabili, diffuse dai media locali nel bombardamento, sarebbero state usate bombe a grappolo. Nessuna conferma di possibili danni collaterali da parte di Mosca, accusata in un recente rapporto di Human Rights Watch di avere colpito infrastrutture civili nel corso degli ultimi due mesi di bombardamenti.